Hi guys, fa la galera la cicosa, ciao ragazzi, bentornati sul canale dello zio Oggi su un altro video di Fortnite, ragazzi, è veramente incredibile, non sto qui a scherzare Il finale è qualcosa di imbarazzante, nel senso, nella maniera positiva perché non è un gameplay con tantissime kill Però, ragazzi, ho usato la pistoletta, quella là, diciamo, oro ed è stata fantastica, quella là silenziata E poi, ragazzi, nel finale ho veramente fatto un qualcosa di, per i miei livelli, quasi incredibile Però non voglio spoilerarvi niente, quindi godetevi i video Scusate se ci sono dei problemi di microfono, di distorsione nel finale, ma non è colpa mia, non so perché Non è proprio se mi ricordo cominciare a dare i numeri Quindi, ragazzi, niente, questo è stato l'ultimo video che ho registrato senza webcam Gli altri, credo, registrerò sempre con la mia cara nuova webcam Bella, ragazzi, mi raccomando, like perché veramente è un finale assurdo Allora, io, che cazzo era questa cosa? Oh, no, no Oh Quanta vita aveva questo Un po' qua che ci dà, altro medikit Che sinceramente porterei al posto delle granate Ok, possiamo andarcene Qua non hanno luttato Che non c'è un cazzo Andiamoci a prendere sta airdrop Eccolo, c'è uno laggiù Questo è mio, vaffanculo Zucco No, la minical che schifo Eh, vabbè Lascio tutto Ok, siamo vicino a safe Scudone Ma dove? Oh, fa tutta quella strada Oh, mio Dio Ma non è che ne ho messo la penna il cazzo questo Cari, cari Stronti Ok, la uccisa Oh, mio Dio La mia pistoletta magica La mia pistoletta magica Ragazzi Eh, vabbè Let's go Ok, bene Massimo del legno Però dobbiamo andarcene da qui Funghi? Ci sono dei funghi? Ok Vediamoci se i funghi Bella così Altri funghi Ce li papiamo Sono in sei E ora let's go Si corre Anche se ho la jump Sì, ho la jump raga Quindi magari Non siamo scoperti sotto questo punto di vista Andiamo su questa montagna Oh ok let's go let's go let's go no il pompa porco zio il pompa il pompa il pompa oddio cazzo di pompa ok ok raga siamo a cavallo siamo in 4 mettiamoci questo qua ricarichiamo tutto ok ok qua c'è qualcuno qui sono due funghi ci diamo il funghetto siamo in 3 devo fare solo questo da dove andiamo in safe e a farmi un bel merdi faccio la testolina ecco la testolina caccia la caccia se la fa ancora più alta io la butto giù eh ma è proprio al mezz'ora ma porca è una sveglia che è stata una prova è troppo e nella cosa potrebbe esserci il lanciaglanate che mi servirebbe l'altro dov'è a me raga devo andare io ma cosa sta andando a me raga ma cosa stiamo giù Deve venire lì da noi ragazzi E' sceso no? No non è ancora sceso Ok perfetto L'altro dov'è? Sので Ok,ribbi lo Cosa do Espere 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 coglione se basta farò stronzo adesso vedo dove sta quest'altro campionato qua dove sta campionato questo eccolo ma se il cagliato ragazza questo non posso morir così non posso morir così non 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 posso morir così ma che situazione di merda mamma mia ragazza che cosa mi sto salvando mamma mia ragazza che cosa sta succedendo basta fate una vita porco zio oddio ok basta ne va divanto al cazzo se riesco a fare questa cosa ragazzi sono un mostro se riesco a mince sta partita sono non lo so ragazzi sono lasciato un like non faccio più video perché pazzesco quello combinato guarda 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 Dove sta? Ho vinto una partita incredibile Veramente incredibile Lasciate un like Iscrivetevi al canale Oh